Il Castello dell'Abbate di Castellabate riapre le sue antiche mura nel segno dell'arte e della cultura per accogliere tre serate di intrattenimento di qualità e con le mostre allestite all'interno delle sue sale, le opere dell'artista Sergio Vecchio e quelle della collezione a cura di Vittorio Sgarbi e della Fondazione Pio Alferano. Al via dunque la Kermess racconti d'estate con tre ospiti di alto livello nel campo del cinema, della musica e dello spettacolo. La prima serata, domenica 4 luglio, avrà come ospite l'attore Filippo Nigro che interverrà sul tema cinema e fiction. Mercoledì 7 luglio incontro con Niccolò Aiardi, io sì, da Braccialetti Rossi al Golden Globe. Musica e parole chiude le tre serate, venerdì 9 luglio, il cantautore Gianni Togni con Ma quanto è bello il vinile e la musica italiana, preceduto alle 19.30 da un live di Valentina Iannone. Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 20.45 e sono ad ingresso gratuito e contingentato in linea con le attuali enormi anticontagio. Le tre serate patrocinate dal comune di Castellabate, quale partner attivo dell'iniziativa culturale, sono state organizzate dall'associazione D'Live Media, diretta dal professore dell'Università degli Studi di Salerno, dottor Roberto Vargiù, in collaborazione con il locale Circolo del Cinema Ieri, Oggi e Domani e DITAS, Laboratorio Diritto delle Imprese, del Turismo ed Attività dello Spettacolo. Tre racconti d'estate molto interessanti con ospiti di grande spessore dotati di una spiccata personalità che, nella prima settimana di luglio, renderanno il Castello dell'Abbate ancora una volta vivo centro culturale per turisti e cittadini che potranno soffrire gratuitamente di un'offerta di intrattenimento di grande spessore, dichiara il sindaco facente funzioni del comune di Castellabate, Luisa Maiuri.